Dischi volanti, qual è stato il primo avvistamento? Esistono dei documenti segreti? Ci sono le prove dell'esistenza degli UFO. Gli UFO attaccano gli aerei russi? Sono fenomeni naturali? Quella sera la faglia si mosse. Sono tutte burle? È stato facile realizzare queste immagini. Gli alieni rapiscono le persone? Quello che ho visto era vero, era tutto reale. Li sentiamo? Non possiamo escludere che quel segnale provenisse da un'intelligenza extraterrestre. Ci stanno osservando? Tutto cominciò nel giugno del 1947, quando un pilota avvistò uno strano oggetto volante nei pressi del Monte Rainier, nello stato di Washington. L'oggetto si spostava più velocemente di qualsiasi aereo. Il pilota si spaventò e fu costretto ad atterrare. La notizia dell'episodio accaduto a Kenneth Arnold si sparse in tutto il mondo. I giornali parlavano di un disco volante. Stava per cominciare l'era degli UFO. Le bombe non riescono neppure a scalfirli! Il cinema inizia a raccontare storie che parlano di invasori provenienti dallo spazio. A poco a poco si scatena il panico. Sembra che stiano per uscire! Nel 1938, il regista Orson Welles fu costretto a scusarsi pubblicamente a causa di un suo programma radiofonico. Questa storia era già apparsa tempo fa sui fumetti per bambini. Non immaginavo che avrebbe potuto avere un effetto così profondo e immediato sugli ascoltatori della radio. Sono molto spiacenti. Nemmeno l'esercito fu in grado di risolvere il mistero degli UFO che erano stati avvistati in Europa negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale. I piloti dei caccia americani raccontano le loro esperienze. Credo che il primo avvistamento risalga al novembre o dicembre del 1944. Vedemmo delle palle di luce che si allontanavano dalle ali dei nostri apparecchi a una velocità incredibile. Non riuscivamo a capire cosa fossero. A me sembrò di vedere una luce bianca. Secondo alcuni era rossa e secondo altri era verde. Qualche pilota cercò di seguirli ma non riuscì a raggiungerli. Erano troppo veloci. Volevamo scappare ma era quasi impossibile. Quando cercavamo di allontanarci da loro li vedevamo riapparire all'improvviso. Ho tentato di colpirli ma non ci sono riuscito. Avevamo il moschito inglese. A quei tempi era uno degli aerei più veloci del mondo. Spiorava i 450 nodi. Lo abbiamo spinto al massimo più di una volta ma non siamo riusciti nemmeno ad avvicinarci. Un'arma segreta dei tedeschi? Allucinazioni dei piloti? Fenomeni naturali? Nessuno sapeva dare una risposta. La questione è ancora aperta. Non hanno mai stabilito cosa fosse quell'oggetto volante. Qualcuno ha parlato di un velivolo militare tedesco pilotato da terra ma io rimango della stessa idea. Dopo 50 anni sono ancora convinto di aver visto un UFO. La guerra è finita ma gli avvistamenti continuano. La vita nell'America del dopoguerra sembra tranquilla. Ma la sicurezza nazionale è sempre in allerta. Gli Stati Uniti sono ancora sotto la sorveglianza aerea dell'Unione Sovietica? Sorgono molti sospetti. I documenti segreti sulla bomba atomica potrebbero essere stati rubati e si teme lo scoppio di una guerra nucleare. Le spie comuniste potrebbero essere ovunque, nascoste tra la gente. Ognuno di noi potrebbe essere un alieno con sembianze umane. Mi scusi, potrebbe dirmi... Prego, mi dica. No, niente, non importa. Le testimonianze sugli avvistamenti degli UFO non vengono portate alla polizia ma all'aeronautica militare. Da 22 anni gli investigatori del famoso progetto del Libro Blu studiano i fenomeni extraterrestri con due scopi principali. In primo luogo dobbiamo stabilire se gli UFO possono rappresentare una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti. In secondo luogo dobbiamo studiare la tecnologia degli UFO per scoprire quanto è più avanzata della nostra. Nel 1969 le conclusioni delle indagini sono nessun pericolo e dati irrilevanti. L'aeronautica militare si occupò di 132 avvistamenti. Gli investigatori esaminarono ogni singolo caso tentando di fornire un'interpretazione razionale. Ma il 21% di tutti quegli avvistamenti risultò inspiegabile mentre numerosi casi furono archiviati per insufficienza di dati. Si resero conto che più l'avvistamento era dettagliato più il fenomeno sembrava sconosciuto. Succedevano cose molto strane. Eppure l'aeronautica militare disse alla gente che sulla base dei dati a disposizione nessun oggetto che si possa definire un disco volante aveva mai sorvolato gli Stati Uniti. Scettici e credenti volevano delle prove. Alla fine tutti furono accontentati. Mi sentivo emozionatissimo. Era il momento più importante della mia carriera. Nel 1987 il ricercatore inglese Tim Goode ricevette dei documenti segretissimi dal governo degli Stati Uniti. I documenti in questione riguardavano delle scoperte sugli UFO e furono soprannominati i Magnifici 12. Il presidente Eisenhower rivelava un fatto straordinario avvenuto nel Nuovo Messico nel 1947. Un disco volante si schianta al suolo. Viene trovato dal proprietario di un ranch a 120 chilometri a nord della base di Roswell Army. Si tratta di un oggetto sconosciuto che non presenta parti metalliche. Tra i rottami vengono rinvenuti i corpi di quattro alieni. La notizia del ritrovamento si diffonde. I pezzi del disco volante vengono portati in luoghi diversi per essere analizzati. Viene raccontata una storia di copertura. I testimoni civili vengono interrogati. L'ho capito subito. Quei documenti erano importantissimi ma non erano mai stati resi pubblici. Non avevo mai visto niente del genere in tutta la mia vita. Non c'è alcun dubbio. Ci sono le prove dell'esistenza degli UFO. Due cose sono certe. La prima è che la Terra è stata visitata da degli oggetti volanti provenienti dallo spazio. La seconda è che il governo non solo è a conoscenza di questo fatto ma possiede anche i pezzi di un'astronave e i corpi di alcuni extraterrestri da almeno 50 anni.